La sintassi del periodo. Con questo termine si indica quella parte della grammatica che studia come le diverse frasi o proposizioni si colleghino fra di loro per formare un periodo. Mentre con l'analisi logica suddividevamo la frase in gruppi più piccoli, i complementi, nella sintassi del periodo consideriamo unità maggiori, intere frasi, collegate fra di loro. Questo permette di capire come costruire una frase e migliorare la comunicazione personale. Quindi dobbiamo comprendere cosa significano alcuni termini fondamentali, che cos'è il periodo. Osserviamo l'esempio. Oggi piove in continuazione. In casa tutti si annoiano e l'atmosfera è tesa. Solo Maria è serena perché sta leggendo un bel libro. In questo caso abbiamo tre periodi. Frasi che iniziano con una maiuscola e sono concluse da un segno di interpunzione forte. Sono costruite attorno ad uno o più verbi o predicati. Ed ecco qui di una definizione. Il periodo è quella parte di testo dotata di senso compiuto, formata da una o più proposizioni collegate fra di loro e conclusa da un segno di interpunzione forte. In base alla struttura interna possiamo distinguere i periodi in semplice, composto e complesso. Quando parliamo di periodo semplice intendiamo una unica proposizione, cioè un unico verbo. Vediamo l'esempio. Composto è composto il periodo che presenta due o più proposizioni collegate fra di loro o da segni di interpunzione o da congiunzioni coordinanti. Vediamo questo esempio. Infine abbiamo il periodo complesso, che presenta anch'esso due o più frasi, di cui una è autonoma e dalla quale dipende la seconda e le altre. Ad esempio, gli alunni entrano in classe perché è suonata la campanella. Abbiamo anche in questo caso due verbi, entrano ed è suonata, e le due frasi sono collegate da una congiunzione subordinante, che fa sì che la seconda frase, è suonata la campanella, dipenda dalla prima. Come possiamo riconoscere quindi il numero di proposizioni che sono presenti in ogni periodo? Occorre individuare e sottolineare i verbi contenuti nel periodo stesso. Facciamo questo esempio. Tutti dicono che Orietta ha ottenuto le lodi della professoressa perché è molto studiosa. Attraverso queste barre, cioè questi slash, io ho suddiviso il periodo in tre frasi. Tutti dicono che Orietta ha ottenuto le lodi della professoressa perché è molto studiosa. Attenzione quindi, i predicati possono essere sia verbali che nominali. Un predicato uguale una frase. Dobbiamo però fare attenzione che all'interno della frase i verbi servili seguiti dall'infinito sono considerati un solo predicato. Posso venire con te? Qui abbiamo potere più il suo infinito ed è considerato un unico verbo. Vuoi mangiare o devi studiare prima? In questo caso ho fatto un periodo composto da due frasi, da due proposizioni, anch'esse di verbo servile. Anche i verbi frasiologici, cominciare a finire di stare per eccetera, seguiti da infinito o gerundio compongono un unico predicato. Sto studiando storia e non uscirò con gli amici. Sto studiando è un frasiologico. Uscirò con gli amici, uscirò a verbo un predicato verbale normale. Anche in questo caso il periodo è composto di due proposizioni, cioè di due frasi. Invece gli infiniti usati come soggetto di una frase o complemento oggetto non sono da considerarsi predicati. Facciamo un esempio. Cantare mi piace. Il verbo è in questo caso solo piace, perché il verbo cantare all'infinito vuol dire il canto ed è usato come soggetto della frase. È il soggetto del verbo piacere. Grazie a tutti.